Messaggio del 23 aprile 2011. Traduzione di Mada Cermelli. Atonimpianto nucleare del Giappone, radiazione, assistenza, tecnologie ARP, ecc., Matteo prevalenza, effetti della paura, Lazarus varietà dell'aiuto extraterrestre, menta formazione della civiltà, assistenza, Matteus e multidimensionale. Con amorevoli saluti da tutte le anime in questa stazione, questo è Matteo. Iniziamo invitando il nostro amico e collega Aton ad affrontare il problema, che più turba la mente di molti può la situazione dell'impianto nucleare del Giappone essere risolta in tutta sicurezza, quale danno ambientale a lungo termine ne risulterà, quanto sono pericolosi per la vita i livelli delle radiazioni? Atonaton è qui per acquietare le vostre menti. Vi assicuro che la situazione può e sarà risolta in modo sicuro, non ci saranno danni a lungo termine. Al momento, tuttavia, è una questione di contenimento. I nostri scienziati stanno suggerendo alle menti dei laboratori presso l'impianto e dal personale esterno, quale azione intraprendere per prevenire la fusione dei reattori danneggiati e essi definirebbero quel processo di filtrazione come loro idee o ispirazioni. La nostra piccola squadra vicino all'impianto insieme agli equipaggi extraplanetari sta riducendo la radiazione nella misura possibile e la tecnologia delle navi sta contribuendo a ridurre l'attività dei reattori. C'è anche una diffusa mancanza di conoscenza su quanto sta succedendo. I vostri scienziati non sanno che la Terra sta orbitando in frequenze dove la radiazione è frammentata e meno potente di quanto registrato dai vostri strumenti. Naturalmente tali strumenti non sono calibrati per includere fattori sconosciuti. Inoltre, le differenze nella loro precisione stanno provocando una serie di letture e questo crea confusione su quali siano realmente i livelli della radiazione. Le letture più basse sono più affidabili secondo i nostri strumenti, che tengono conto della frammentazione di cui ho parlato. Inoltre, molte persone, che sanno che siamo nei paraggi perché le nostre navicelle sono spesso visibili, non sanno che quando il nostro apparato tecnologico è al suolo noi possiamo dematerializzare quei reattori e le scorie nucleari e purificare la vostra aria, suolo ed acqua, inquinati. Nemmeno gli straordinari poteri di guarigione della Terra vengono riconosciuti, perciò questo non è nelle vostre proiezioni scientifiche dei possibili risultati di questa situazione nucleare. Questa inconsapevolezza collettiva sta causando molta paura, e quella paura è l'unica parte preoccupante per noi sull'intera faccenda. Il simile attira il simile, e la formazione negativa degli oscuri sta attraendo gli attaccamenti energetici negativi della vostra paura. Essi stanno usando questo per aumentare la loro forza e determinazione per continuare a combattere le forze di luce delle quali voi operatori di luce fate parte. Non cadete nella trappola della paura e dissipate la paura negli altri, ovunque possiate. Alcuni di voi sono scoraggiati o delusi perché non siamo sbarcati per ripulire l'impianto nucleare una volta per tutte. Sì, potremmo farlo se fossimo a Terra, e gli oscuri tra di voi lo sanno. Essi sanno anche che una volta, che atterriamo in massa, tutta l'attività oscura avrà una fine repentina. Ecco perché i mercenari e le altre truppe sotto il loro controllo sul pianeta sono in allerta per l'attacco alieno e sono pronti a prendere pesanti misure di ritorsione. Non possiamo mettere a rischio la sicurezza vostra ed i nostri equipaggi atterrando pubblicamente fino a quando esiste quel rischio. Non sappiamo quando questo avverrà sempre per via di quella paura finché la paura continuerà ad alimentare l'oscurità, quel rischio rimarrà. Le vostre ininterrotte richieste per fonti energetiche più sicure porranno fine al regno dell'energia nucleare. È sempre stata pericolosa nei mondi di bassa densità e non è necessaria nei mondi a densità più elevata. La tecnologia dell'energia sicura, affidabile e pulita è stata soppressa da coloro che hanno fatto fortuna con l'energia nucleare ed i combustibili fossili. Chiedete che quelle nuove fonti energetiche siano messe a frutto. L'insieme delle vostre richieste, le nostre tecnologie e le capacità stesse della Terra ripristineranno la sua salute nell'arco di mesi piuttosto che dei secoli, che calcolate per dimezzare gli elementi radioattivi. E non sottovalutate la forza dei vostri pensieri o chiamate le preghiere affinché il vostro mondo sia in pieno splendore, libero dall'oscurità. Molto deve essere realizzato e lo sarà prima della fine del prossimo anno. Il processo sarà molto più facile e piacevole quando il potere della luce sostituirà l'energia della paura. Matteo, vorrei cogliere questa occasione per parlare di qualcos'altro che viene chiesto perché non fermiamo i terremoti artificialmente provocati smantellando ARP. Anche se ARP effettivamente registra attività sismica artificiale, è un equivoco. Che sia unicamente responsabile di quei sismi, ARP ha parecchie funzioni in diverse località in tutto il mondo, ed una delle funzioni insieme ad altre tecnologie, viene usata per provocare terremoti, eruzioni vulcaniche, forti tempeste ed inondazioni. Queste altre tecnologie sono derivate dalle invenzioni e scoperte di Nikola Tesla e le informazioni date dai piccoli grigi. Questo risale all'incirca a 70 anni fa. Tutta questa tecnologia è stata rilevata dagli Illuminati ed è stata modificata per raggiungere i loro scopi negativi. Essi sospettavano che stessimo interferendo con i loro tentativi di causare distruzione e morte di massa, ma non ne erano certi fino a pochi mesi fa quando abbiamo ridotto la forza del vento di un uragano ed eviato la tempesta verso nord lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Dopo questo, i loro scienziati ed ingegneri integrarono vari sistemi per interrompere a livello globale la vostra energia elettrica ed i servizi di comunicazione qualora provassimo a smantellare dalle nostre navi qualche loro equipaggiamento. Fare questo è un processo complicato e può essere fatto solo sul posto onde evitare serie ripercussioni. Non appena gli Illuminati incontreranno la loro fine, le funzioni di ARP e le tecnologie di Tesla saranno applicate per scopi utili e non distruttivi. Grazie, Matteo, per avermi permesso di usare questo spazio per fare chiarezza al riguardo. Matteo Aton, grazie a te ci hai risparmiato di spiegare questo. Allora, come appena detto Aton e come vi abbiamo detto anche noi in varie occasioni, la paura è potente e c'è molta paura nel vostro mondo. Giustamente, il popolo giapponese ha paura mentre i terremoti continuano e sono vicinissimi alla radiazione dei reattori. Molti che vivono in altre zone sismi che hanno paura, ed è lo stesso per le persone, che vivono in paesi dove la guerra è in corso, quelle in gravi difficoltà economiche e le persone sfollate dalle loro case. Altri temono il riscaldamento globale, l'instabilità o il crollo dell'economia dei loro rispettivi paesi, la perdita del lavoro, il costo della benzina, lo stato di abbandono delle infrastrutture e persino una treguerra mondiale nucleare. La paura collettiva, che rafforza l'oscurità nelle menti e nei cuori sta anche compromettendo i benefici della luce anche se questa continua ad intensificarsi lungo tutto il percorso di ascensione della Terra. Mentre il fattore paura non può rallentare il ritmo deciso del pianeta, consente tuttavia agli oscuri di ostacolare il progresso di individui come combattenti per la libertà in parecchi paesi, coloro che lavorano per le riforme economiche e governative, e molti, che erano sul punto di vedere la luce. Perciò si potrebbe dire che c'è una stasi nell'avanzamento individuale verso l'età dell'oro della Terra. Ci affrettiamo ad aggiungere che questo non può durare più molto a lungo. La Terra si sta avvicinando a livelli vibratori dove la luce è così intensa, che tutti quelli che hanno rifiutato la luce quelli che definiamo oscuri semplicemente per indicare la loro mancanza di luce moriranno. Questo può sembrare eccessivamente duro, ma non si tratta di un giudizio divino o una punizione si tratta semplicemente della fisica, che governa la vita in questo universo per cui i corpi privi di luce non possono sopravvivere nelle vibrazioni più elevate. In breve, tutti coloro che hanno causato condizioni terribili scompariranno. Come promemoria di quello che abbiamo detto in messaggi precedenti, anche molte anime lasceranno questa vita in conformità con i loro contratti d'anima, e non saprete se è per loro scelta o è la scelta di rifiutare la luce a determinarne la morte. Ed ancora una volta vi esortiamo a non giudicare nessuno ma ad inviare luce a tutte le anime nel vostro mondo. Fare questo rafforza la luce dentro di voi, che si espande verso l'esterno per elevare gli altri. La Terra sa dove la luce è più necessaria e la diffonde verso quelle aree attraverso un processo di livellamento universale. Quale forza più potente nel cosmo, l'amore-luce ha effetti straordinari ovunque venga ricevuta. C'è ancora un'altra fonte di paura. Non scoraggerà il ritmo ascensionale della Terra, ma può avere gravi conseguenze per le persone colpite. A differenza delle fonti sopra menzionate, che hanno una base nelle circostanze attuali, questa fonte di paura è latente, radicata nelle persone, che credono alla rappresentazione degli alieni nei divertimenti come ad una conquista certa. e le persone, che credono ai rapporti, che una civiltà, che pretende di essere benevola atterrerà e ridurrà in schiavitù la popolazione della Terra. Tali persone vedranno l'arrivo di esseri dall'aspetto strano come l'impensabile, che si sta effettivamente realizzando. Mentre desideriamo fortemente che le nostre informazioni raggiungano tutti coloro che hanno tali convinzioni, forse dovremo essere soddisfatti dell'illuminazione delle persone, che sono liete per gli avvistamenti di navicelle ma non hanno idea di come siano i loro passeggeri ed equipaggi e non sanno che la Terra sta ricevendo la loro assistenza da molti secoli. Speriamo inoltre di raggiungere le persone inconsapevoli menzionate da Atone e coloro che pensano che non abbiamo bisogno di alcun aiuto, siamo in grado di gestire tutto da soli. Quello che offriamo non soltanto attesterà le motivazioni pacifiche e la varietà di aiuti che sono stati e vengono dati da altre civiltà, ma vi farà conoscere un bel rappresentante di una di queste. Recentemente a mia madre è stato chiesto di rivedere un altro dei libri invece di ordinarne la ristampa, e nel farlo ha lavorato con le fonti, che hanno aggiunto degli aggiornamenti al loro materiale originario. Mamma, per favore inserisci la parte, che abbiamo e includi anche la mia introduzione di Lazarus. Amore e pace.